La Camera di Commercio di Prato ha presentato i dati relativi alle proprie attività, un dovere che ogni ente pubblico, quale la Camera di Commercio è, ha nei confronti dei cittadini, soprattutto se si tratta della giornata della trasparenza. L'eliminazione delle opacità nella pubblica amministrazione è un obbligo imposto dalla legge, ma costituisce anche un momento importante per condividere strategie e progetti, rendendo conto dei risultati raggiunti. Ammonta a 7,2 milioni di euro il valore aggiunto creato nel 2014 dalla Camera di Commercio di Prato. Di queste risorse il 57%, pari a 4,1 milioni di euro, è stato distribuito al sistema economico produttivo. Costante in questo senso l'intervento per il sostegno finanziario alle imprese, attraverso i bandi camerali. Circa 700 mila euro i soldi messi loro a disposizione nell'anno passato, per ben 508 imprese coinvolte direttamente nei programmi strategici. La Camera di Commercio in questo momento sente l'esigenza di portare a conoscenza dell'attività che svolge su questo territorio ed è un'attività che vede impegnato ovviamente tutto lo staff e tutti i componenti della Camera, sia nella parte che riguarda l'erogazione dei servizi, ma anche su quella della promozione. Questa si trasforma in numeri abbastanza chiari che danno un'idea di quello che effettivamente è il lavoro svolto. Si parla di 7 milioni di PIL per incremento appunto di ricchezza che viene fornito dalle servizi e dalle attività che la Camera effettua sul nostro territorio per le imprese. Si parla di una presenza che attraverso anche l'erogazione di risorse, si parla di circa 700 mila euro che vengono messi a disposizione per le imprese attraverso bandi mirati che sono risposta alle esigenze delle imprese. Si parla oltretutto di una presenza attraverso iniziative sul nostro territorio e quindi attraverso le strutture che noi abbiamo e che mettiamo a disposizione di tutta la città. Si parla di iniziative che vedono partecipare più di 15 mila persone. Questo vuol dire essere capaci di rispondere alle richieste che il territorio fa. I nostri organi di riferimento che sono composti dall'associazione di categoria pongono degli obiettivi ambiziosi alla Camera, sia per la promozione e lo sviluppo del territorio, sia per la semplificazione amministrativa e servizi alle imprese. La struttura cerca di ottenere per seguire questi obiettivi, ottimizzando le risorse a disposizione e che alla fine dell'anno apre le proprie porte. La trasparenza non solo come adempimento di una legge, ma anche come questione di mentalità. Parlare ai funzionari pubblici e ai cittadini, pubblicare i propri dati, inserire strategie di integrità all'interno di percorsi formativi, significa attuare un vero e proprio passaggio culturale. La giornata della trasparenza è un adempimento obbligatorio per tutti gli enti pubblici, ai sensi prima della legge Brunetta e poi di tutte le normative successive in materia appunto di trasparenza. È un evento di estrema importanza in cui la Camera di Commercio di Prato si presenta al territorio e alla collettività di riferimento. Molti parlano appunto delle democrazie scandinave, come i luoghi della trasparenza. In effetti le democrazie scandinave hanno il pregio di aver inserito le norme sulla trasparenza addirittura nel 1766, quindi una norma costituzionale più o meno 250 anni fa. Noi arriviamo con un po' di ritardo evidentemente. Noi arriviamo con un po' di ritardo.